Ciao, sono Riccardo Pollastrini e voglio fare gli auguri, tantissimi auguri agli orti per i 30 anni di attività. Io sono anche doppiamente orgoglioso perché mi ho preso parte all'inizio dell'avventura. Ciao a tutti e spero di essere di nuovo fra 30 anni a fare un video per quegli auguri. Grazie e ciao a tutti. Auguri orti.